Africa, India, Indonesia, è qui che resistono le ultime popolazioni di rinoceronte rimaste. Animali unici, simbolo di una natura meravigliosa, affascinante e misteriosa. Ed è proprio negli angoli più remoti delle foresti indonesiane che resistono le ultime popolazioni di rinoceronte di Sumatra e di Java, due delle tre specie di rinoceronte asiatico, o le immense savane africane, dal Kenya al Sudafrica, che si rifugiano le due specie di rinoceronte africano, grandi, imponenti, maestosi. In questo video vedremo quali strategie di conservazione dobbiamo intraprendere per garantire la sopravvivenza di queste meravigliose creature.